lui non era come gli altri lui era cintura nera vorremmo imparare a difenderci voi vorreste imparare il kung fu dimmi chi è chi è chi il bullo che ti mena quando cominciamo presto presto domani mattina all'alba ma no meno presto ma perché ce l'ha con voi davide sbava dietro a quella che gli piace l'arte del kung fu prende ispirazione dalle movenze di cinque animali gruda leopardo serpente sono quattro questi no solo che tu non sei un maestro di kung fu sei un attore voglio insegnargli il kung fu e ho bisogno di te che serviva la controfigura pure per camminare dai su vuota la mente tu lo dovevi vedere mentre si allenava con il kung fu era così pieno di energia così fiero di sé ma me spieghi per quale cazzo emotivo e sto allena pure io io il mio allievo nadir vogliamo sfidarvi è l'allievo che sceglie il maestro il microrganismo di terza media come te ha sfidato un bullo del liceo hai dato una speranza a tutti i miei sfigati con il tuo avversario non deve avere timore colpire 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 oh 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 oh